Prato celebra la giornata del rifugiato domani 20 giugno con un ricco calendario di eventi che alternerà momenti di riflessione sull'attualità a musica e sport. Il programma è stato presentato questa mattina in Palazzo Comunale alla presenza dell'Opera Santa Rita e dell'Arci che gestiscono la rete di accoglienza sul territorio attraverso i centri di accoglienza straordinaria che ad oggi ospitano 750 richiedenti asilo e il sistema Sprar che si occupa di 52 rifugiati politici. Vogliamo valorizzare in termini politici e rivendicare l'esigenza della tutela e della protezione internazionale in un momento in cui il governo sta approvando la legge sullo Jussoli che ci vede estremamente favorevoli e nel momento in cui il governo ha già approvato la legge sui minori non accompagnati. Entrambe le associazioni hanno organizzato una serie di appuntamenti per l'occasione e per l'Arci sarà anche un modo per festeggiare il sessantesimo anniversario della fondazione. Inizieremo stasera con una rappresentazione teatrale con testi ripresi da Eschilo e Pasolini. Domani mattina faremo una sorta di convegno sul tema della dimensione spirituale del migrante e per concludere un triangolare che si svolgerà al campo sportivo Vittorio Rossi di Viale Galilei. Si contenderanno un torneo che sarà il torneo dell'amicizia, tre rappresentative, una delle quali appunto di persone che provengono dall'esperienza dell'accoglienza profughi. Il programma si chiuderà il 21 giugno a Officina Giovani con la festa dell'Arci Provinciale. In cui ci sarà una prima parte dedicata a un dibattito sull'accoglienza e una seconda parte invece con la presenza dei assalti frontali a un gruppo rap importante e impegnato che ci presenterà sia il video che loro hanno fatto ai primi di febbraio nel Libano e poi dopo ci sarà il concerto chiaramente gratuito.